Agli ascoltatori di Reteotto i più cari auguri di Buon Natale, di felice conclusione del 2023 e di buon inizio del 2024. Che sia un Natale di pace, ce lo auguriamo tutti e ne abbiamo veramente bisogno, ma che sia anche un Natale di intimità familiare per ricostruire quei rapporti e quella cura reciproca di cui veramente abbiamo bisogno. Maria, Giuseppe e il bambino Gesù si sono presi cura gli uni degli altri, soprattutto Maria e Giuseppe del bambino Gesù. E quando Gesù è diventato adulto anche lui di loro. Ecco, nella famiglia prendiamoci a cuore, prendiamoci realmente per mano ancora una volta e camminiamo verso quella grotta di Betlemme. Troveremo ristoro, troveremo forza. Buon Natale a tutti.